Sono contento della prestazione di oggi da parte mia e di tutta la squadra. Era un risultato importante, comunque 3-0, non abbiamo preso il collo, abbiamo vinto. È una vittoria comunque da morale, in vista anche della partita che ci aspetta venerdì contro la Serenitana, che sappiamo tutti è un derby qui. I complimenti hanno fatto tutta la squadra, perché alla fine la difesa non è solo un difensore, ma sono dal centrocampo agli attaccanti. Adesso siamo entrati nell'ottica e dobbiamo correre tutti insieme e difendere tutti insieme. I risultati, logicamente, danno morale e danno anche fiducia. Dopo un infortuna non è facile le prime partite rientrare. Si vanno. Hai paura di rifarsi male? Sì, paura anche di appoggi, vedere come va e tutto. È normale, partita dopo partita acquisti sempre più fiducia nei tuoi mezzi e ti senti anche più libero quando giochi. La partita di oggi è stata una partita non da 3-0, risultato non molto largo, però non ci sono state le occasioni da dire doveva finire 3-0 la partita. Il primo tempo è stato molto contratto da parte di tutte e due le squadre. Abbiamo creato poco noi, poco loro. Abbiamo avuto giusto un'occasione al primo tempo con Volta che ha preso il pallo su un calcio piazzato. Il secondo tempo dopo il gol ci siamo un po' sciolti, abbiamo creato un po' di più. Poi l'espulsione di Domizzi ci ha spianato la strada. Luca lo conosco molto bene, è prima di tutto un bravissimo ragazzo, un professionista e anche un ottimo giocatore. Sono convinto che darà il suo contributo quest'anno. Noi come in tutte le partite cercheremo di dare il meglio, il massimo per portare a casa i tre punti e spero che i tifosi ci seguiranno in questa impresa.